perché io di solito diciamo l'airdrop è indice di luogo di chiusura del cerchio per questo mi sto avvicinando così l'unica cosa che purtroppo è capitata è che non abbiamo un mezzo forse in questo gruppo di case lo troviamo o forse troverete una morte e allora secondo me sia vera questa profezia è troppo se la pronunciava solo uno vabbè ma è due ok tra poco si chiude il cerchio e vediamo se abbiamo fatto una stronzata ciao gamberone buonasera macchina e invece ha trovato la morte qualcun altro abbiamo trovato anche un mezzo e il cerchio si sta chiudendo proprio qua hai visto? la fortuna ci arride mamma mia check pot 8x cose 4x ma vuoi l'8x? no no ecco ma io non so che farm e modi tutte sti sti cosi qua boh vabbè fa vedere quest'altro che c'ha che c'ha questo? ah vedi una mod che potrebbe tornare utile un fumaggio che potrebbe tornare utile andiamo via andiamo via sali sali allora ciao gamberone come stai intanto? tutto bene? sei per goderti questo finale di partita scoppiettante senti facciamo la solita tecnica sulla spiaggia allora sparco in normandia casa casa jeep oh mi seguiamo? eccoli la eccoli la vai dritto per dritto ecco lì a destra qua come sono altri? cazzo ma guarda che questi erano altri erano altri questi? si si ah veramente? a destra ma questo erano altri io non c'è mai sapere eh va bene gamberone come si chiamava per scaricarlo? tutto bene grazie a me oh c'è quelli c'è quelli ho messo notte ancora tu eh guai che è la concessione della jeep e poi che è si erano fermati ah stai vedendo il container quale container? il container blu acceso questo qua 255 si stanno sparando con il fucile precisione oh cazzo cazzo qua sto troppo esposto ma dove stanno? non li vedo stanno sempre là mi sto curando gamberone vai sulla chat generale del server di discord delle live c'è il link per scaricare l'emulatore luca fatti indietro che ti stanno ammazzando la ti colpiscono la gamba oh si sono spostati oh ma che cazzo ti danno? sto per cadere porca merda no 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 senti ti resto e buttiamoci a mare eh a mare proprio come mi rambo cazzo non lo sanno che ci buttiamo a mare vabbè non ci buttiamo dai ah non lo so vedete no no facciamo una tecnica più stanno avendo con la jeep ok buono eh ma non mi sto curando sei bloccato cazzo sono caduto eh sono pure quasi morto curati curati eh siamo in una posizione proprio di merda non posso neanche mirare tutto stanno non posso mirare in alto ecco lì non li vedo è perché se sei accovacciato non li puoi mirare devi stare in piedi per mirare in alto ma dove stanno è qua sopra sono caduto sono di fronte a noi sta ok uno è terra eccolo sta arrivando sta ok mi puoi restare aspetta un attimo mi metto qua dietro gamberone un finale col botto 11 persone in vita ancora però madonna mia ma che finale artita più moscia dell'universo vedi che la granata fumogena ci ha salvato il culo comunque eh ma pure io ne ho buttato uno eh sì sì ho visto hai fatto bene abbiamo fatto bene comunque mamma mia sono sfondatissimo uh questi hanno un sacco di roba buono questo c'ha anche un m24 m4 ok mi sono preso un sacco di cose mi sono ricostituito ci manca solo un giubbotto un po' ecco qua perfetto grande ci siamo bravo gamberone ottimo allora prossimamente sicuramente possiamo giocare insieme non vedo l'ora non vedo l'ora ok luca io ci sono si guai ho fatto una bella scaricata di vector in faccia e poi tu l'hai finito fantastico airdrop cerchio 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 ci sta raggiungendo la macchina prendi la macchina prendi la macchina porco cazzo sto qua sto qua sto qua oh vai 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 Vabbè, avvicinati, vedi che c'è il ponte e il cerchio sta là, avvicinati e poi andiamo a piedi. Qua dietro? Eh, fermati, fermati qua, fermati qua. Vai. È l'unico modo. Non c'è nessuno, vai. Togliti l'armi da mano e corri. Tanto fin qua non c'è nessuno. Mamma mia, gamberone, finale scoppiettante, preparati a fare una clip della nostra morte da coglione. Ok, fin qua non c'è nessuno. Ho guardato col mirino prima, qua non c'è niente. Dopo ci dobbiamo stare attenti. E che cazzo. Wow, che cagata proprio. Hai visto? Questa è la copertura. Non vedo nessuno. Dai un'occhiata anche sulle spiagge dietro. Abbiamo fatto talmente tardi che nessuno sta cagando il ponte. Almeno per così sembra, per adesso. Ok. Ci sta una jeep. Eccola, infatti sì, c'è una macchina in fondo al ponte che si è appena spostata. C'è una macchina in fondo al ponte che si è appena spostata. È andata verso destra, verso 150. Eh, verso destra c'è pure una jeep sulla collina, fermo. Sì, però non c'è nessuno dentro. C'è la macchina là sopra, arrivata alla 127. Sì, la 127. Ok. C'è una airdrop in basso, a destra. Ho visto, ho visto, non c'è nessuno. Nelle case a sinistra non vedo nessuno. Forse ho visto qualcuno. Sì, vedo qualcuno a 50, lo sparo. Dove sta? L'ho buttato a terra. Quindi c'ha l'amico, c'ha. Sta vicino alle case, lo vedi? Ok, benissimo. Ho detto fammelo sparare qua, che cazzo ne so. Ok, però non è morto subito, quindi c'è il compare. Sta nelle case il compare, sicuro. Madonna. Ma mi buttavo di sotto. Eh, le case comunque restano fuori dal cerchio, eh. Ok, curati, curati. Ci sei curato? Sì, sì. Ok, come stai messo? Ciao, il giubbotto livello 2 è un po' rotto. Eh, pure io. Il giubbotto livello 2 è poco rotto, il mio livello 3. Ok, non vedo nessuno. Ok, vedo qualcuno a 150, sta scendendo la collina. 150. Sta steso a terra, stanno dietro al masso, lo spari in testa. Vai! Vai! Si è proprio morto. Ok. 5 persone in vita. Cento passi, sei tu? Io mi sono fermato. Forse ci sta qualcuno che sta salendo alle case. Da sotto al ponte forse qualcuno sta salendo. Qua sotto, dietro al albero. Sto arrivando. Ti butto una granata. Vai! Sto arrivando. Ti butto una fumoggia così non ti vede. È scappato a destra. Dove sta? Non lo vedo. Qua sotto sta. Ah, eccolo. L'ho ucciso. Ok. 4 contro... 4 persone in vita. 2 contro 2. In alta a sinistra. Gamberone. Cazzo il cerchio ce lo mette nel culo, però. Li abbiamo sicuramente dal lato opposto al nostro. Sì, quelli che ne lasciano 27. Sì, perché poi si stavano sparando e hanno ucciso... Senti, vogliamo andare con la jeep? Con una stronzata. Eh, scendiamo in faccia, penso. Che facciamo? Però... Che vogliamo fare? Io andrei a piedi perché i soldi siamo sempre morti, però non lo so. Andiamo. Che capita, erano con le situazioni del cazzo, con la jeep, che tipo ci arrivi in faccia, non sai manco tu che fare. Ma più che altro non riesci a spararli in tempo. Sanno due morti vicino alla... Eh, infatti ho guardato. Vabbè, il fatto che stiamo vicino al cerchio è già una cosa buona. Probabilmente stanno stessi questi stronzi. Sì, facile. Ua, che cazzo. Mamma mia, che danni che fa questo cerchio. Fammi curare. Aspetta che mi sto sparando tutto. Ok. Visto? Eh, pensavo di sì, ma invece no. Tipo a 220. Ho visto una cosa strana che volava. Tipo un elmo, capito? Guardate anche dietro qua, eh, che non si sa mai. Ho fatto uno scattino. Dove cazzo stanno questi? Oh, oh, oh. Dove? Ah, lo vedo, lo vedo. Ho buttato a terra uno. Aspetta che ti tiro una granata. Ma tu come stai messo? Pallo. Fatto, vinto. E dedichiamo questa vittoria a Gamberone, che così mangia felice. Ah, ah. Grande. Dai, fate sta win, così mangia felice. E mangiamo pure noi felici. Abbiamo ucciso Hamed Sombatidue. Fanculo, affa i kebab sul nilo. Grande. Ah, numero uno. Ah, ma c'è anche Giulia. Ciao Giulia, buonasera. Ciao, bellissima. Ah, ma come siete belli. E ce l'abbiamo fatta. A parte che gli ho tirato la Molotov mentre tu lo sparavi, quindi non aveva scampo. Così lo beccava anche da dietro il fuoco nel culo proprio. E attenzione, c'è un Matusala in 23, MVP Terminator con 9 kill, signori. Io ho fatto 4 kill, ho fatto molti meno danni, però diciamo che mi sono comportato bene. Ragazzi, io ve lo ripeto, ogni mercoledì facciamo la giornata per giocare insieme con chi ha il follow, quindi per chi ha un succintello. Per chi ha un subcintello, che quindi ha la sub, e ovviamente ci gioco insieme anche in altre giornate, un po' come capita. Sia a PlayerUnknown, sia che ad altri giochi che faccio qui live sul kyle. L'ho scaricato ma per aprirlo quella specie di balena, esatto, gamberone, sì. Guardate ragazzi, sono tentato di scrivere una guida a questo punto su come fare per aprire, scaricare, aprire e far funzionare l'emulatore, per giocare a PlayerUnknown's Bar Bones Ground Mobile. In modo tale che tutti quanti voi potete adoperarvi e attrezzarvi per giocare insieme. Potete giocare anche da cellulare, basta che avete Discord, più che altro. Ah, io mi colleziono tutti i fatti, benissimo. Olè. Ok, quindi ci siamo. Allora ragazzi, io termino qui questa live, e ovviamente vi voglio ringraziare per la vostra compagnia, voglio ringraziare tutti quanti voi per avermi infuso il vostro coraggio e la vostra energia. Ringraziamo il Matusalem 23 nazionale che ci ha carriato come sempre. Salve, 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 buonanotte e buonasera. Al contrario, dai. E quindi niente, ragazzi, adesso io stacco, quindi chiudo la live, vi auguro una buona serata, forse ci vediamo in terza serata, quindi dalla mezzanotte in poi, però non ne sono certo. E quindi niente, ah, vi ricordo di andare sul mio canale YouTube a vedere il nuovo episodio di Amnesia da Dark Descent che ho pubblicato ieri sera, l'episodio numero 10. Ciao cara, buona serata anche a te, ma buona serata a voi, e quindi grazie Gamberone, grazie Giulia, ringraziamo anche Salli, Gargiocolo, tutti quanti quelli che sono venuti durante la live. Ovviamente prima di andare vi lascio con la mia fantasmagorica sigla. Buonanotte, buonanotte, buonanotte a tutti ragazzi, e ricordatevi di dare un'occhiata al giveaway, e di iscrivervi e seguirmi su tutti i socials. Ciao! Baciotti! Ciao ragazzi!